Siamo tutti amici e perciò felici senza dei nemici siamo Snorky, Snorky! Buongiorno amici della Zoccolo Duro, buongiorno! Sono andato a ripescare la canzone degli Snorky proprio in onore di Super Snorky! Ieri Snorky Day, mamma mia, l'ho messo al fantacalcio, ho detto, porca miseria, tolgo Piatek, il pistolero, capocannoniero del campionato, insieme a Ronaldo Non ti ne sbaglia Ronaldo, anche ieri davanti alla porta, vabbè, comunque, meno male che almeno ho segnato Eravamo lì, ho detto, tolgo Piatek, metto lo Snorky, ho detto, in casa, titolare, col Frosinone, se non mi fa a meno una doppietta a sta partita, quando lo metto, se no lo do via, cosa me ne faccio? Ho visto il primo tempo, non ha toccato un pallone il primo tempo, ho visto il primo tempo e ho detto, no ragazzi, qua mi fa perdere il fantacalcio Meno male, meno male che qualcuno gliel'ha tirata su quella capoccia grossa che c'ha E' riuscito a metterla dentro Persino Keita ha già fatto i gol di Lautaro Martinez in 20 minuti E' un giocatore, comunque, che a fine anno penso che andrà via, perché non è a livello dell'Inter Non è proprio, non ce l'ha, non ce l'ha E' indietro, gli mancano tantissime cose, tantissime cose Non tiene un pallone, non gioca per la squadra, non dribbla, si muove male E' un giocatore che proprio gli manca, gli manca tutto Tra l'altro è basso, però segna di testa, a me che c'ha un testone alla Snorky Però, almeno quello, almeno la butta dentro di testa Difficile fare peggio, è difficile fare peggio Però, meno male, ma è andato più tra il fantacalcio Quindi oggi gli interisti saranno felici Alla tredicesima giornata, secondo gol dello Snorky Domani ritorna a sedersi in panchina Perché, ovviamente, giocherà i Cardi, che è totalmente un altro livello E quindi l'Inter ha vinto 3-0 3-0, sono fortissimi Adesso inizieranno le vere partite per loro Perché hanno il Tottenham, poi c'hanno la Roma Poi, se non sbaglio, c'hanno pure la Juve sto mese Quindi sarà un bel mese per l'Inter Natalizio, un bel mese natalizio Ah, c'è il Napoli, il 26 dicembre c'è il Napoli A Santo Stefano, lo so perché il mio figlio si chiama Stefano A Santo Stefano, c'è Inter Napoli, a San Siro Forse vado, forse vado perché voglio vedermi quel paracarro di Milik se si sveglia Si giocherà oggi Comunque, la Roma ha perso Quindi, non dico che è fuori perché non è fuori, ha due punti da noi e ha tre punti dalla Lazio Quindi non è fuori dalla lotta al quarto posto Però ragazzi, che formazione ha messo ieri in campo alla Roma? Se ti presenti con tutti insieme Mirante, Santon, Pellegrini, Cristante, Schick, Klaivert Non lo hai detto già sei ragazzi, sono sei giovani Magari cresceranno ed esploderanno Però poi c'avevi Zonzi L'unico buono che avevi era Colaro Juan Jesus, hai messo Quindi l'unico buono è Colaro, è Fazio Juan Jesus E chi era l'ultimo? Ah, è Sarawi È Sarawi Quindi Cioè ragazzi, leggete la formazione della Roma Tolto Colaro, non c'è un campione Che, anche Colaro, comunque ormai c'ha la sua età A me piace tantissimo Però ormai c'ha la sua età Come fai a vincere le partite? L'Udinese si deve salvare Poi adesso che hanno mandato via Li Vasquez Velasquez Come si chiamava lui, quell'allenatore inutile La Serie B spagnola Forse hanno capito Perché all'inizio, vi dico la verità Quando Pozzo ha preso questa allenatore a Serie B spagnola Ho pensato, questi vogliono andare in B Cioè, vuole che la squadra va in B Non lo so, per le spese Perché ha dovuto rifare lo stadio C'ha troppi costi Pensavo veramente volesse andare in B Infatti adesso ha mandato via, è arrivato Nicola E secondo me può salvarsi l'Udinese Perché comunque le qualità ce le ha Giocatori di qualità ce le ha Si può salvare anche tranquillamente Sera giocherà con l'Empoli Che ha tolto Andrea Zoli Occhio all'Empoli Oggi vediamo il Chievo con Napoli Dovrebbe... Ecco, il Chievo è una di quelle che Se ne andrà in B Poi chi ha giocato ieri? Vabbè, Ronaldo ha vinto Lo sappiamo Abbastanza agevolmente Mi sorprende di Ronaldo Non i gol che fa Che comunque è capo canoniere insieme a Piatt Ci mancherebbe altro Batte tutto lui Ricori, calci d'angoli Davanti alla porta Tutti gli adani Ci manca pure che non segna Poi lui È Cristiano Ronaldo Non è che È Lautaro Martinez Per dire Cioè, è Cristiano Ronaldo Però l'ho visto sbagliare Tanti gol quest'anno Tanti gol Non pensavo ne sbagliasse così tanti Cioè, è un po' come Se ne crea Perché ovviamente Tanti se ne crea lui Che non esiste Non sono azioni da gol Se ne crea lui Però ne sbaglia tanti Non pensavo ne sbagliasse così tanti Pensavo fosse uno più Più cecchino Più Che quando gli avete lì Lui fa gol Punto è finito In realtà ne sbaglia parecchi Non me l'aspettavo Però Vintagevolmente Anche Mangiukic Quanti gol ha fatto Anche Mangiukic Ha fatto molte meno partite Ma Più o meno Con i gol Sono gli stessi di Ronaldo Avrà fatto 5 gol Avrà fatto Quindi niente Oggi giochiamo noi Ragazzi Alle 18 Giochiamo a Roma Con la Lazio Partita Difficilissima Difficilissima Per le condizioni In cui arriviamo E soprattutto Perché la Lazio È la Lazio Oggi però Può essere anche La partita della svolta Ragazzi Voi sapete Negli anni Le partite con la Lazio Sono sempre state Le partite della svolta Solo che avevamo Ambrosini Su Evcenco Quindi Era un po' diverso Andarsi a giocare a Roma Oggi Giocheremo Con un po' di Arrangement Sembra che Gattuso Voglia fare una difesa a 3 Io spero di no Sembra che voglia fare Questo 3-4-3 Sempre questo tridente Davanti Che non è efficace Eccetera 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 Mi aspetto una partita Brutta Ve lo dico Del Milan Cioè tipo Napoli Tipo Col derby Cioè mi aspetto Una di quelle partite Brutte 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 Spero di no Però conoscendo Gattuso Faremo una partita Molto brutta Nella quale poi Tutto può succedere Nel senso Peschi il giochi A differenza del Napoli Che ti schiaccia La Lazio La metto a livello Dell'Inter Sarà tipo Il derby Ovvio che se la prendi Nelle ciappette Al novantesimo Che ti segnano Che trovano l'occasione Che ti segnano Perdi Se magari Peschi tu il giolli Vinci se non paregi Ma una partita Ragazzi Che sarà brutta Ve lo dico Ve lo dico Sarà brutta Vediamo Vediamo Stasera Magari mi sorprendono I ragazzi Mi sorprendono Chi lo sa Chi lo sa Quindi ragazzi Godiamoci il campionato Lo snorchi Finalmente Un più tre Adesso se ne può tornare In panchina Che tanto a fine anno Se ne va lì A proposito Cos'è successo Lì a bocca Junior River Plate Ma quelli sono matti Il mio amico Fede Che continua a fare video Sugli insulti Che Vabbè io non sono Tanto d'accordo con lui I veri problemi Sono quelli Quando tirano i sassi All'autobus E si ferisce L'occhio Del capitano ferito Ragazzi Una partita di calcio Cioè E' bello il clima Che si crea All'interno dello stadio Con i cori E quant'altro Ma cosa sono ste robe Che tirano Ma cosa vuol dire Tirare le pietre All'autobus avversario Cioè Ma sei scemo Sei proprio scemo Di natura Allora tu Stai andando A vedere la finale Quindi avrai speso La finale Libertadores E' un po' come La finale di Champions Avrai speso Un sacco di soldi Per il biglietto Per la trasferta Per il viaggio Vabbè Per aver mangiato Con gli amici Tutti i soldi Che tu hai speso Vai allo stadio E poi sei talmente Imbecille Che Uno Lanci la pietra Che senso ha Che gli lanci la pietra Vabbè Lanci la pietra Ti arrestano Perché comunque Quelli che hanno lanciato Il pietra Almeno li arrestano Non vedi la partita Perché la partita L'hanno rinviata La faranno oggi Cioè ma Ti manca proprio Qualche rotella Nel cervello Vabbè Ragazzi Vi saluti Ci vediamo domani Mettete un bel like Come sempre Iscrivetevi al canale Lo zoccolo Duro Lo zoccolo duro Lo zoccolo duro Non di sor Duro Lo zoccolo duro E ci vediamo domani Per vedere il Milan Cosa è riuscito a fare Se siamo riusciti A portare a casa Qualche punto Sarebbe importantissimo Perché noi siamo a 21 La Lazio a 22 La Roma ha perso Quindi Sarebbe importantissimo Firmerei per il pareggio No Non si firma mai Per il pareggio Perché siamo il Milan Però Non sarebbe un risultato Da buttare Ciao belli